Bene, ci siamo per questa serata, il Cile è il momento della speranza, benvenuti a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare Andrea Bulgarini di Mondo Senza Guerre che è qui insieme a me perché appena è arrivata la notizia della vittoria di Boric e noi eravamo molto trepidanti perché l'idea che vincesse quell'altro mostro era proprio terribile, lui mi ha detto ma perché non organizziamo un incontro per parlare di questo e veramente è stato velocissimo tra Andrea che me l'ha proposto, la Pia che ha detto subito di sì è stato proprio come una cosa che evidentemente c'era molta voglia di fare e vabbè abbiamo scelto questa data perché comunque metterlo durante Natale non era il caso e quindi niente, questa è la prima cosa che volevo fare, ringraziare Andrea per quest'idea e poi ringraziare Pia Figueroa per la disponibilità a essere qui la presento molto brevemente Pia è con presenza fin dall'inizio, è proprio una delle colonne super storiche e come tutti noi di presenza, diciamo noi ci definiamo un po' mediattivisti nel senso che è vero che questa è un'agenzia stampa però noi non seguiamo le cose da fuori cioè tutti i temi che ci appassionano la pace, il disarmo, la non violenza, l'ambiente, i diritti umani eccetera li seguiamo molto spesso partecipando agli eventi di cui parliamo e anzi alcune volte addirittura siamo noi a organizzarli e quindi un po' questa caratteristica è quella che ci distingue un po' da agenzie stampa magari che sono più neutre mentre nel nostro caso c'è proprio una molto spesso una partecipazione diretta e io credo che la cosa molto interessante di questo incontro di stasera che Pia ci potrà raccontare tante cose su quello che è successo e quello che sta succedendo in Cile da dentro quindi proprio da una delle persone che hanno partecipato e quindi la prima domanda che volevo fare è un po' collegata a questo perché c'è stata questa elezione di presidente di Gabriel Boric che è il presidente più giovane del Cile ma io credo anche di non so quanti altri paesi hanno un presidente di 35 anni però il tema anche se questo è molto importante mi sembra interessante da sottolineare perché questa elezione è il frutto di un lungo processo di tutta un'accumulazione di anni, di lotte, di iniziative Boris era uno dei leader degli studenti e quindi è come un po' questa cosa che arriva da lontano io vorrei cominciare a parlare di questo i movimenti degli studenti, il risveglio sociale tutto questo che ha portato poi a un risultato che rincuora anche noi che stiamo all'altro capo del mondo quindi questo sarebbe un po' il primo punto Pia cosa è successo per arrivare a questa nuova situazione? prima di tutto Anna ringraziare te e Andrea per questa idea, per questo dialogo, per questo incontro con gli amici italiani, con gli amici così cari perché per me l'Italia ha una carica di emozioni molto molto forte alla quale mi sento assolutamente legata per cui vi ringrazio tantissimo di questa opportunità di poter parlare con voi, di poter avere questi incontri poi il titolo, il titolo è bellissimo la speranza per chi ha letto i miti e conosce Pandora sa di cosa stiamo parlando non è qualsiasi cosa allora parlare di questo è molto importante e riguardo alla tua domanda vorrei dire, forse prendere il fatto già descritto da Ortega e Gasset e molto sottolineato dallo scrittore e filosofo maestro Silo che puntavano a che il motore della storia è il ricambio generazionale quando una generazione si instala nel potere fa di tutto per tenerlo e viene invece contestata viene questionata viene discussa entra in discussione la prossima generazione che entra in lotta e che deve lottare per ottenere il potere va bene nel Cile è successo che dopo la dittatura si è installata tutta una generazione nel potere che è la stessa che ha governato questi trenta e passa anni e oggi ci troviamo ancora con Sebastiano Pignera che è il presidente ancora attuale che ha settant'un anni ed è uno dei più giovani diciamo tra questa generazione che usa il potere che tiene il potere da più di trent'anni da questi anni della democrazia dopo dittatura allora in tutti questi anni sono cambiati i governi però è una stessa sensibilità che lo ha avuto ed è venuta contestata non dalla generazione immediatamente seguente ma di quella dopo di quella che erano bambini nella scuola secondaria nel 2008 ha incominciato un movimento dei secondari si chiamavano i pinguini che sono i giovanissimi che volevano un'educazione gratuita e di qualità loro si sono prese le scuole si sono prese le strade hanno fatto una grande delle grandissime manifestazioni e dopo si sono vabbè dissolti perché il governo di quel momento ha fatto un delle modifiche ma superficiali ma comunque li ha fatto credere a loro che venivano dei cambiamenti e questi pinguini si sono hanno finito un po' come movimento si sono dissolti tra cui si trovavano un gruppo di studenti tra cui a Punta Arenas la città più australe del mondo Gabriel Boric come studente secondario però sono passati degli anni e nel 2019 no 2011 prima sono venuti gli universitari gli universitari chiedendo ancora come grande movimento un'educazione gratuita e di qualità perché dovete sapere che nel Cile si paga l'educazione si paga carissima si paga tanto proprio e tra questi universitari si trovavano tanti tantissimi tra quelli si Gabriel Boric Camilla Vallejos Giorgio Jackson altri che non hanno voluto partecipare a nessun partito già stabilito a nessuno dei partiti hanno contestato la politica e si sono creati i suoi partiti politici i suoi nuovi partiti politici con i quali quattro anni dopo alcuni sono entrati al Parlamento e così ci troviamo a tre prima di tutto e poi a cinque fino al Frente Ampio che è un altro movimento che si è formato con diversi partiti nuovi e uno più antico che era il Partito Umanista però la maggioranza partiti nuovi che si sono inventati questi giovani e con quei partiti il Frente Ampio è entrato anche al Parlamento quattro anni fa e adesso si è capito quattro anni fa che se ti presentavi a tutte le elezioni crescevi come partito allora questi giovani non solo vengono dai movimenti sociali non solo vengono dai partiti creati da loro ma si presentano tutte le elezioni a tutte perché così usano lo spazio contestano lo stabilito si questionano il modello e fanno propaganda diffusione fanno conoscere le sue idee attraverso le elezioni l'anno scorso l'anno no non scorso due anni fa il 2019 è successo che gli studenti secondari hanno saltato il passaggio di entrata alla metro perché era salita di 30 pesos e loro hanno detto non sono i 30 pesos sono 30 anni di una democrazia falsa di una democrazia ipocrita che ci sta a governare e questo ha dato uno sbalzo su tutta la ecco lì vedete agli studenti che stanno saltando l'entrata al metro senza pagare il biglietto lì si è incominciato quello che si chiama in inglese social unrest che è lo svegliarsi sociale uno svegliarsi di tutta la società che fino a quel momento aveva lottato in diverse cause per esempio io ero andata a tante manifestazioni per finire con il sistema dei pensionati che è privato che è un affare in Cile però anche per l'ambiente però non collegavamo che l'ambiente e il sistema delle pensioni private e l'educazione pessima e privata e la salute e tutte le diverse cause l'indigena erano lo stesso fenomeno del sistema manifestato in una espressione particolare dal 19 ottobre del 2019 grazie a questi secondari si è incominciato a capire a livello massivo sociale di tutti noi che il problema era il sistema e non solo l'educazione non solo l'ambiente non solo il conflitto indigena non solo le risorse naturali o il cambiamento climatico ma il sistema non reggeva più e lo volevamo cambiare no? quest'anno non quest'anno nel duemilaventuno si sono fatte le elezioni primarie per scegliere i candidati che andrebbero definiti per l'elezione dei presidenti per cui ogni coalizione doveva trovare persone che volevano fare di candidato alla presidenza e scegliere tra loro chi li avrebbe rappresentato questi più giovani che si erano inventati i partiti che avevano conformato il fronte ampio che erano ormai già nel parlamento hanno detto vabbè andiamo a questa elezione anche se appoggiamo noi al candidato comunista che tutti i sondaggi davano per vincitore allora loro hanno trovato un po' di firme un po' di cose e si sono presentati ecco lì il fronte ampio vedete in mezzo proprio al centro a Thomas Hirsch che è il nostro amico umanista vabbè però loro hanno trovato il modo di presentarsi per fare un po' di diffusione e l'unico tra loro che aveva l'età per potersi candidare come candidato alla presidenza era Gabriel Boric per questo hanno chiesto a lui puoi tu farlo intanto sarà il comunista quello che vincerà per cui che ti frega e lui si è messo ha detto va bene lo faccio lo faccio le hanno trovato le firme lo hanno messo su però già c'era una nuova sensibilità dopo questo svegliarsi sociale già c'era una nuova sensibilità e il partito comunista risultava troppo antico per questi tempi per la pandemia per questa crisi globale per queste sofferenze incredibili che si sono presentate tutto il 20 21 era difficile fare fare scelte per un partito così antico così fuori tempo come il partito comunista che il partito comunista cileno regge ancora dai tempi della rivoluzione di ottobre del 1917 diciamo per cui la gente normale che poteva votare a queste primarie ha scelto il ragazzo giovane e ha scelto Gabriel Boric e lui è stato il primo sorpreso di dire ma adesso devo fare il candidato alla presidenza per cui non è stata una operazione pianificata passo a passo adesso ci prendiamo il potere no da un certo momento in poi è risultato lui il candidato e lui ha detto va bene io lo faccio e adesso devo confrontare alla destra l'unico che nella prima nel primo giro elettorale Gabriel è diventato secondo e invece è stato eletto come prima possibilità per andare al balotage il cast che è uno di estrema destra e di fronte a queste due possibilità di uno estrema estrema destra come un Bolsonaro per capirci come un Trump per capirci più un Bolsonaro che Trump veramente perché non ha tanti soldi è uno studente che ha fatto sempre il contestatario che non vuole il sistema che rifiuta il machismo che è il primo a dirsi femminista lui che si dice femminista che è pieno di tatuaggi dappertutto che è uno che non vuole il sistema come è è risultato eletto nel balotage come presidente che assumirà l'undici marzo soprattutto perché sono andati a votare l'elezione in Cile è una opzione non è un obbligo sono andati a votare massivamente le donne dai 18 ai 30 anni e sono loro chi lo hanno eletto fondamentalmente ecco quello che posso fare come una sintesi di questo processo Anna non so se era quello che tu volevi un po' sì sì mi sembra molto interessante quello che mi piacerebbe è tornare un po' a quello che dicevi del risveglio sociale che ha unito tante lotte di diverso tipo anche e visto che io so che tu hai partecipato tanto a tante iniziative eccetera c'è qualche episodio particolare che vorresti raccontare che ti sembra significativo che è stato molto forte per te anche come partecipazione guarda il risveglio sociale è stata una cosa incredibile perché ogni giorno mutava cambiava forma un giorno si andava a Piazza della Dignità per stare lì semplicemente un altro giorno per cantare un altro giorno per sventolare delle bandiere ogni giorno era diverso un giorno a me mi ha telefonato un'amica attrice Paola Hunt che tanti di voi conoscete e mi ha detto guarda Pia domani andiamo tutte vestite in nero e in silenzio solo donne per manifestare con questo silenzio nostro rifiuto all'azione poliziale che aveva ammazzato già uno e aveva ferito negli occhi parecchi allora ci mettiamo in luto e stiamo zite vuoi venire? io senz'altro vado ci sono andata e non potevo crederci Anna perché eravamo migliaia di donne migliaia tutta la lameda nera tutta in silenzio silenzio totale nessuna ha fatto una parola anche se ti trovavi con tanti che conoscevi perché perché c'erano tutte le donne che ci muoviamo che andiamo per strada che scendiamo in piazza come dite voi però nessuna diceva nemmeno ciao facevamo così e basta ed era una marea nera in silenzio e questo ha fatto un colpo di stampa perché il silenzio ha una forza enorme come manifestazione poi un'altra volta ecco sono apparse le tesis queste ragazze che hanno fatto la sua performance e che è stato immediatamente ripreso perché ha stabilito una sintonia fortissima con quello che venivamo sentendo da tanto sul patriarcat allora ci ha circolato da whatsapp un invito alle tesis senior che eravamo le donne maggiori ormai che avevamo vissuto il patriarcat in carne propria in un modo o in un altro e bisognava trovarsi allo stadio nazionale che è come il campo di fútbol più grosso e guarda che c'eravamo in tante 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 che non si poteva credere a fare questa performance e che man mano tu la fai siccome muovi il corpo e siccome fai questi gesti e come dici il patriarcado è un cuore che non giugge per nascere e incominci a dire queste frasi ti ritornano ti ritornano le frasi ti ritorna il corpo con i suoi movimenti e incominci a sentire quello che tante 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 donne nella storia hanno vissuto per cui esci trasformata una volta che lo fai no è stato molto forte molto bello viene una grande invidia a sentirti anche se devo dire credo che molti di noi se lo ricordano che comunque questo flash mob è esploso in tutto il mondo anche in Italia c'è stato in Grecia in Spagna e credo che questo tema di questa sensibilità che gira e che si sente in tante mobilitazioni anche in apparenza è un altro tema però tutto il tema ambientale con le mobilitazioni dei giovani visto che noi abbiamo parlato di speranza credo che quello è un altro elemento interessante come lo vedi questo tema dei giovani delle giovani generazioni guarda soprattutto che non so ti ricordi questo bellissimo libro il manuale del potere giovane che diceva che la nuova generazione sempre sa quello che non vuole non necessariamente sa quello che vuole allora metti il maggio francese del 68 si diceva chiediamo l'impossibile l'immaginazione al potere chiediamo l'impossibile quello che non vuoi è chiarissimo e questa generazione nuova metti Fridays for Future o Greta Thunberg o tutti questi giovani che sanno benissimo cosa non vogliono più ecco le ragazze femministe vogliono trasformare veramente dice là il sessismo l'abuso sessuale nell'educazione loro non vogliono quello sono halbol sono come si dice in italiano toste ecco toste di quello adesso come si faranno strada dallo stato dalla presidenza della repubblica da tutti i ministeri dal governo per portare avanti il mondo che vogliono è una sfida straordinaria e io veramente sono molto speranzosa in questa generazione perché loro hanno una cosa fondamentale che è il coraggio il coraggio di dire sì l'opportunità è qua e io la prendo l'opportunità di governare un paese essendo così giovane perché Gabriel Boric non solo è il presidente più giovane è quello che ha ottenuto più voti in nessuna elezione precedente tante persone avevano votato per uno come è stato in questa per cui loro hanno il coraggio di dire vabbè lo faremo lo faremo per noi per quelli minoreni di 35 anni non so come sarà però sarà bellissimo eccola guarda che bella libertà sì lui lui ha detto Boric ha detto che farà un governo femminista e che il ministero della donna che Cast voleva eliminare e voleva eliminare anche il voto femminile penso un po' invece Gabriele Boric per fortuna sembra l'inquisizione invece Gabriele integrerà il ministero della donna ai ministeri politici che fanno il governo ogni giorno e farà che tutte le politiche sociali tutte le politiche ambientali tutte le politiche abbiano la dimensione femminista per cui è straordinario come una trasversale alle diverse politiche di stato no per cui saranno le sorprese straordinarie io sono molto curiosa di sapere come andrà a finire allora da quello che so perché con grande invidia visto che qua fa un freddo cane invece da voi è estate siamo in estate noi si vede infatti e quindi l'entrata in carica sarà marzo l'11 marzo sì ecco però immagino che già ci siano delle così delle prospettive delle delle informazioni su che cosa succederà e anche cose che lui sta già facendo guarda la prima la prima cosa che lui ha fatto che non è in carico ancora non è in carico sta a a parlare con le persone che faranno il suo governo e la prima cosa che ha fatto è chiedere al senato e alla camera dei deputati di passare una nuova legge che liberi a tutti i prigionieri della rivolta perché Pignera ha messo in galera a tantissimi giovani che hanno fatto le manifestazioni del dello svegliarsi sociale allora questi qua che vedete nella fotografia sono stati imprigionati sono ancora in galera senza nessun giudizio ancora perché li tengono lì alla nell'aspettativa che li faranno il giudizio allora lui Gabriele ha detto come presidente eletto ho bisogno che fate una legge che li liberi tutti prima di assumere perché non si può prendere un nuovo governo con loro che hanno fatto questo questo movimento sociale enorme dello svegliarsi chileno messi in galera per cui già sta in fondo passando progetti legge senza senza avere il potere per farlo però le hanno risposto subito quelli i deputati i senatori che lo faranno prima delle vacanze che sono a febbraio dovrebbero farlo subito speriamo speriamo anche perché devo dire che il Parlamento non è a favore del governo il Parlamento prossimo che assume pure l'undici marzo è 50% 50% per cui qualsiasi legge dovrà essere molto negoziata è difficile è molto più facile farle passare adesso subito sì quindi sarà sarà difficile sarà tosta sì sarà tosta ecco per questo sono molto coraggiosi loro sembrano degli indicatori importanti senti visto che prima abbiamo fatto un accenno all'ambiente poi a questo cambiamento che è abbastanza epocale perché comunque è anche un cambiamento di generazione forte allora c'è una domanda di Valentina di Ecomapuce che riguarda un po' una delle ultime porcherie posso dire che sta facendo Pignera che è il presidente che dovrà mollare la carica a marzo riguardo al litio che è un minerale sappiamo che è importantissimo e siccome questo Pignera lo dico perché magari non tutti gli italiani lo conoscono è proprio un affarista evasore fiscale paradisi fiscali eccetera lui sta facendo una mossa per praticamente aggiudicare con delle gare d'appalto con delle privatizzazioni una risorsa che invece è importantissima allora tu come lo vedi questo Boric potrà fare qualcosa ha già detto qualcosa su questo guarda questo è successo ieri proprio Pignera ha fatto un appalto e lo ha aggiudicato a una ditta cilena e una cinese si sta a vedere chi sono quelli le persone a cui appartengono queste ditte non sarebbe strano che favorisca a delle persone molto vicine a Pignera se non ai suoi figli comunque sono degli affari grossi anche se è solo il 4,4% del litio quello che è stato appaltato subito Gabriel Boric ha criticato questo ha detto che sarà una delle cose che dovrà rivedere il nuovo governo e che bisognerà formare una impresa nazionale per il litio come per altre risorse naturali però vabbè purtroppo questi governi che se ne vanno approfittano gli ultimi mesi di fare i più grossi affari allora sì è stato noi l'abbiamo pubblicato a presenza non è strano che la persona che ti ha fatto questa domanda abbia letto su presenza perché abbiamo fatto un articolo al riguardo abbastanza ben fondamentato con tutte le parole di Boric che lui diceva che non è possibile che si faccia una cosa così all'ultimo momento però è possibile perché Pignera è capace di tutto guerra certo e aggiungo un commento andando dall'altra parte del mondo per voi è molto vicino a noi che è molto simile a questo abbiamo pubblicato ieri un articolo tradotto dal tedesco che racconta che il governo precedente tedesco negli ultimi mesi giorni ha dato miliardi di ha dato concessioni per vendite di armi di miliardi dicendo dobbiamo andarcene quindi favoriamo tutti i nostri amici quindi sembra che questo sia una una procedura abbastanza abituale chi sta per andarsene mette un po' sotto le cose ruba tutto ruba tutto guarda lascia la casa smantelata allora c'è arrivata un'altra domanda di Maria Giovanna Mirani che chiede è qualcosa sulla politica estera cioè c'è sono già definiti dei rapporti rispetto alle grandi superpotenze o forse un po' presto per dirlo però c'è qualche indicazione l'unica cosa molto chiara del programma di governo è che Gabriel Boric priorizzerà Latinoamerica e che aprirà le frontiere a tutta la regione non è chiaro che cosa farà con le altre zone del pianeta però sicuramente farà dei rapporti abbastanza aperti con tutti non credo chiuda nessun rapporto Piñera aveva chiuso assolutamente con Bolivia con Cuba con Venezuela e con Nicaragua io non saprei dire ma sono sicura che con Bolivia sarà molto aperto se non il ristabilimento dell'ambasciata là perché adesso non esiste e la priorità sarà messa in Sud America sicuramente sì volevo parlare di un altro punto che mi sembra molto importante un po' degli ultimi anni che è questa questione della nuova Costituzione io so che adesso c'è una se ne occuperà di redigerla finalmente levandosi di torno la Costituzione che risale addirittura Pinochet che è come una commissione costituente so che c'era stata come una discussione su assemblea costituente commissione costituente anche delle come delle critiche delle diversità rispetto a Boric però come come si è passati da questo momento così di questa anche un'altra domanda la semplifico un po' perché magari per gli italiani è un po' complicato però secondo te che cosa c'è di interessante in questa nuova situazione che magari non è l'assemblea costituente che avremmo voluto ma è comunque tra l'altro la presidente è la Elisa Loncon che è una mapuce che so che adesso ha ceduto la carica per una questione di tempi però comunque è stato un momento molto importante vedere una persona così a capo di una guarda direi su questo direi che i processi non sono mai come come li si immagina i processi hanno dei volti hanno dei giri non sono dritti non sono linee i processi accumulano scaricano riprendono spariscono e ritornano sono un po' come una mare piena di onde noi e tanti cileni volevamo un'assemblea costituente cosa vuol dire un'assemblea costituente vuol dire che tutto il paese si mette a riflettere su quale passi vuole darsi per scrivere una nuova costituzione ecco la bandiera dell'assemblea costituente l'avevano anche gli studenti più giovani ma non è non è diventato così si è fatto un giro si è voluto una istituzionalità si sono fatte molte critiche si è passato a un'altra tappa e adesso esiste una grazie a un plebiscito che si è vinto ecco Mario Aguilar lì con i professori una una commissione costituente però eletta democraticamente tutti i suoi membri e in parità di genere la stessa quantità di uomini che di donne che è la prima volta nella storia umana che una costituzione si scriverà in parità di genere ma anche con sedili riservati per i popoli indigeni e si è eletto di fatto Elisa Longcon Mapuche come la prima presidenta di questa costituente dopo sei mesi bisognava cambiare la presidenza e sono stati eletti due persone di 35 anni anche loro molto giovani scientifici dell'area della salute molto interessanti perché non appartengono a nessun partito anche loro e vabbè e adesso si incomincia a fare gli articoli della nuova costituzione con un meccanismo che è molto interessante che è che qualsiasi cittadino o cittadina può presentare un'iniziativa per questa costituzione attraverso internet con un formulario specifico molto ben fondamentato e se viene completo si mette online e se raggiunge 15.000 firme passa automaticamente a fare parte della redazione della nuova costituzione adesso che io mi trovo a casa degli amici loro mi facevano vedere una mozione che hanno presentato di fare che il presupposto il budget di armamenti diminuisca che il Cile nella nuova costituzione stabilisca che non andrà più a una guerra e che destineremo questi fondi allo sviluppo sociale diminuendo le armi che ha il paese questa nuova mozione l'hanno fatto qua a casa questi amici nostri e vediamo dovremo vedere se passa tutti questi filtri che stanno in internet se lo fai bene lo passi e poi dobbiamo raccogliere le 15.000 firme per un progetto molto molto caro a tutti noi allora così già ci sono 15 progetti approvati di questo tipo che ti dico e si presentano tutti i giorni per cui è molto interessante la partecipazione che si è aperta la possibilità di influire con progetti precisi e con idee molto molto propositive sì è molto interessante quello che sta a succedere in sei mesi ancora ci sarà un ultimo plebiscito per votare se approviamo o no questa nuova costituzione io spero proprio che sì bene mi sembra molto interessante perché in realtà tu dicevi volevamo un'assemblea costituente ok questa forma non è esattamente questo però questo elemento di coinvolgimento della popolazione di poter dare proposte eccetera mi sembra una cosa di una novità non credo che esista forse anche perché vabbè in Europa perché la tecnologia non c'era prima capito certo ma poi anche noi siamo un continente un po' vecchio in confronto e quindi le costituzioni ce le abbiamo la costituzione italiana è bellissima 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 non è applicata se no sarebbe una meraviglia non saremmo in questa condizione però mi sembra molto interessante questo fatto di una una nuova possibilità che non è semplicemente per quanto saranno molto interessanti questi rappresentanti eletti eccetera però non rimane soltanto chiusa lì e questo direi che è un elemento fondamentale e c'è un'altra domanda del nostro amico Giorgio Schulz che è caro Giorgio caro che è molto appassionato di popoli indigeni fra l'altro gli faccio una piccola pubblicità perché Giorgio ha lanciato con altri ma insomma lui è un po' il cuore di una campagna che si chiama Benettono grazie la conosco perché purtroppo Benettono che è italiano qua ha una così una nomea molto progressista eccetera invece in realtà possiede ettari su ettari in Argentina però diciamo che comunque sono questo popolo mappuce diciamo in realtà il popolo mappuce sta nei due paesi perché poi quei confini non li hanno fatti loro e allora voleva parlare un po' di questo come rispetto alla situazione dei popoli indigeni quello che si sta facendo come vedi questa parte che diciamo è un'altra particolarità importante guarda la bandiera più usata nel risveglio sociale del 2019 in Cile in tutto il Cile non solo nella piazza dignità ma in tutte le città è stata la bandiera mappuce la senatora cioè le elezioni sono stati anche le elezioni di dicembre anche elezioni al Parlamento per cui al Senato alla Camera la senatora eletta con più voti è una mappuce che è stata diventata cieca dal risveglio sociale i poliziotti le hanno ferito gli occhi è diventata cieca lei Fabiola Campigliai è la senatora senatrice non so come si dice più votata tra tutti per cui la speranza dei cileni sulla cultura mappuce il contributo dei mappucci sulla loro forma di trattare l'ambiente di risolvere i conflitti è enorme pian piano si stanno integrando loro sia alla commissione costituente come al senato e alla camera occupando posizioni dove mostrano questo sapere tradizionale ancestrale bellissimo stupendo e penso che questo cambiamento culturale aprirà tante teste e aiuterà anche speriamo a risolvere il conflitto fondamentale che loro hanno con le loro terre perché hanno sofferto molto soprattutto con le forestriere con le forestali noi abbiamo pubblicato a presenza una un documentale bellissimo sul conflitto delle imprese le dite forestali dite voi forestali si con le comunità mapuches in chile questo vale la pena di rivederselo perché è veramente un conflitto fortissimo così come benetton in argentina sono le industrie che tagliano i boschi in chile che tagliano i loro boschi per loro è la sacralità che viene tagliata immagina il bosco è il sacro per cui viene tagliata venduta la sacralità è terribile speriamo che si possa mettere fine a questo conflitto grazie al cambiamento di testa che si sta a produrre nella valutazione della loro cultura grazie mi sembra molto molto interessante questo ho un'altra domanda del nostro amico Andrea dell'otto inarrestabile colonna della redazione italiana che anche chi la conosce si è venuto in cile Andrea infatti Andrea sul tuo facebook hai te stesso in cile quindi evidentemente ci tieni a questo paese allora la domanda è quali saranno i poteri forti che Boric il suo governo tutta questa nuova situazione si troverà ad affrontare secondo te quali saranno le maggiori difficoltà che si troveranno guarda Andrea questo programma si chiama cile il momento della speranza non ci mettiamo nella situazione delle difficoltà che saranno tante saranno enormi perché i poteri sono grossissimi il potere del denaro in cile è molto forte ma non solo il denaro la chiesa i militari ma soprattutto le banche soprattutto i padroni delle risorse naturali i problemi sono enormi però il coraggio di questi giovani la possibilità di aprire la porta a una nuova generazione piena di sogni piena di speranze mi sembra molto più interessante che i conflitti che avranno loro faranno degli errori come tutte le generazioni li abbiamo fatto faranno delle grandi errori però saremo noi ad appoggiarli ad aiutarli a dargli conforto perché bisogna mi sembra in questo momento nel nostro paese fare un grande fronte dietro di loro lasciare che loro prendano l'avanguardia e l'iniziativa però saremo i più grandi a dare forse spazio alla riflessione alla rivalutazione a vedere che i poteri fattici qua non possono continuare con l'autoritarismo e con la soberbia che le hanno fatto di tenersi tutto perché questo non è più possibile il neoliberalismo ha rubato tutto nel nostro paese non le lasciamo toglierci la speranza certo diciamo che il neoliberalismo ha fatto danni dovunque lo vediamo noi abbiamo in Italia il nostro presidente del consiglio che è veramente l'emblema stesso del del neoliberalismo più orripilante quindi lo capisco molto bene questa questo tipo di di lotta di necessità no c'è una domanda molto rapida di Daniela Bezzi che dice se puoi spiegare bene come si intitola quel documentario di cui parlavi prima come si intitola non me lo ricordo purtroppo però te lo te lo cerco Anna te lo mando e tu se lo fai va bene lo faccio puoi sapere io sì ma volevo chiedere una cosa perché a me è sempre interessato molto anche la relazione tra cose interessanti che succedono in un paese e l'effetto che può avere in altri allora è chiaro che poi ogni paese ha le sue particolarità che non si possono esportare tali quali occupiare però siccome parlavamo di anche di questa sensibilità dei giovani tu parlavi del coraggio eccetera e non credo che cioè saremo un po' sfigati a dire vabbè ma tanto c'è solo in Cile allora come lo riconosci anche in altri movimenti eccetera quali sono secondo te queste caratteristiche loro sono quando dico loro la gente che è stata eletta non solo Gabriele ma tutti quelli che vanno adesso a prendere il governo sono molto vincolate ai movimenti femministi argentini per esempio le donne argentine hanno una grossissima forza nel nostro continente sono molto vincolate ai movimenti indigeni del Perù e della Bolivia soprattutto sono molto vincolate al movimento indigena equatoriano che ha fatto un grande risveglio pure loro loro hanno tantissimi allacci con la loro generazione ovviamente in Europa non lo so non lo so tanto non so se se abbiano uno sguardo più a lungo perché anche non hanno avuto molto il tempo loro da quando sono studenti che stanno nelle strade lottando non è che viaggiano molto stanno nella prima linea diciamo però sono sicura che questo questo è un fenomeno molto nuovo che chiamerà l'attenzione di tante persone al mondo e che non sarebbe strano che stabiliscano dei rapporti molto in fretta però sono anche rispettosi dalle generazioni precedenti per esempio AMLO dal Messico è subito diventato un aliato subito ha ha telefonato ha fatto ha detto delle parole e subito ha detto vengo al cambio di mando vi aiuto vi do una mano come Messico dobbiamo fare le cose assieme per cui non sono solo i giovani sono quelli aperti di mente solo sono quelli giovani di mente anche no quindi anche noi vecchiotti non lo so guarda mi piacerebbe moltissimo io ricordo faccio un po' di pubblicità a presenza però dunque quando era nel 2018 c'è stato un momento molto bello in cui Thomas Hirsch che è il nostro amico deputato umanista carissimo amico anche che era appena stato eletto nel Frente Ampio e adesso è stato rieletto è venuto faceva un giro in Italia e a Milano abbiamo organizzato un bellissimo incontro in cui c'è stata veramente molto interesse molta adesione eccetera perché bisogna dire che l'Italia ha un rapporto molto particolare con il Cile perché comunque sono venuti ecco questo è Tom Hirsch sono venuti tanti profughi al momento del colpo di Stato eccetera e l'ambasciata italiana era tra le poche che accoglievano quelli che stavano scappando quindi c'è proprio tutto una una storia una storia un affetto anche e quindi niente siccome quello è stato un momento bellissimo mi piacerebbe tanto poter ripetere covid permettendo perché qua non si sa mai cosa si riesce a fare di pubblico però riuscire a ripetere questo tipo di di momenti perché sono molto ispiratori perché credo che uno dei punti fondamentali è trovare fare in modo che i movimenti sociali trovino una rappresentanza politica e mi sembra che questo sia successo in in Cile e in Italia non ci siamo ancora riusciti e quindi potersi ispirare un po' quello che è successo senza fare l'idolo ma insomma ma mantenere viva viva quella quella forza sì e quello un po' che il collegamento tra movimento sociale e forze politica noi abbiamo tentato di tenerlo vivo con questo libro che tu conosci che si chiama muri che hablan il muri che parlano è un libro grosso che raccoglie le fotografie di tutto il movimento sociale il despertar social che si è dato nel 2019 in Cile e l'abbiamo regalato a Gabriel Boric ovviamente come presenza eccolo Muros che ha grazie Andrea grazie fai vedere quanto grosso è fai vedere quanto eccolo vedi noi l'abbiamo regalato a Gabriel e lui nel momento di riceverlo ha detto questo mi tiene mi tiene accesa la fiamma mi tiene accesa la fiamma della lotta sociale e di fatto questo questo libro vogliamo pubblicarlo anche in Italia perché è da regalarsi così ai movimenti agli attivisti alle persone che lottano no? è una in tutte queste immagini che Andrea ci sta a fare vedere non esistono più perché Pignera li ha li ha cancellato li ha fatto dipingere tutti i muri questi erano graffiti pitture di murali che si erano fatti nei tempi di non ce n'è più nessuno nessuno quindi è una testimonianza ancora più importante sì l'abbiamo regalato al museo della memoria al museo dell'estaglido social sì perché già non esistono per questo è stato così bello perché il giornalismo attivista al quale tu dicevi che prende le immagini di quello che succede nel momento però fa anche un lavoro di memoria nel fare ecco le tessi senior quindi c'eri anche tu sì 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 abbiamo preso quelle foto chiaro sono tutte le foto va bene va bene per cui facciamo in Italia anche quel libro che è bellissimo sì sì è previsto sta nei grazie nei progetti darà ispirazione ai movimenti italiani certo allora faccio una cosa veloce perché Domenico ci ha mandato il nome di quel documentario che è Impactos della industria cellulosa i forestal i forestal e così se qualcuno Impactos della industria cellulosa i forestal quindi se qualcuno era interessato e vuole segnarselo abbiamo beh ovviamente sarà in spagnolo ma è molto bello lo trovate su presenza sì sì bene io direi che siamo un po' sul finale di questo incontro non so Pia vorresti un po' sintetizzare secondo te tutto questo processo lungo quali sono le cose più vorrei dire che tanti tanti anni fa tanti anni fa nel 70 1970 io partecipavo a un movimento che si chiamava Potere Giovane e il Potere Giovane è arrivato in Cile quando ormai noi siamo io sono una nonna figurati però sono felicissima perché apre la porta alla generazione che ha l'energia che ha la chiarezza che ha il coraggio che ha la forza per fare i cambiamenti e che non ha il timore riguardo al sistema stabilito non ha non ha il freno che mette il timore ma al contrario ha questa capacità di inventare l'impossibile per cui loro non sono ancora al potere dall'undici marzo in poi sarà un altro discorso ma godiamoci questi mesi che sono una enorme speranza godiamoci questo gennaio questo febbraio d'estate di una vacanza straordinaria dove noi siamo come come nelle nuvole perché veramente non si riesce a credere che questo che sta a succedere riscrivere la costituzione lasciare il potere ai giovani farli fare quello che loro vogliano e aiutarli metterci alla loro disposizione per aiutarli e dare voce amplificare la loro voce mi sembra un momento straordinario solo da ringraziare e ringrazio pure voi amici italiani che siete interessati a questi temi che partecipate da là a questo momento quando volete riprendiamo queste conversazioni sarà bellissimo sarà bellissimo sì guarda Pia mi viene subito in mente di proporti che sarebbe molto bello fare un altro appuntamento fra un po' di mesi insomma subito dopo l'undici marzo facciamo la seconda puntata l'undici l'undici marzo appena appena sì appena loro siano incarichi sì bene ti prenotiamo va bene ok bene grazie allora ci salutiamo grazie mille semplicemente aggiungo ci sono un sacco di saluti anche da facebook tanti amici amiche poi quando avete in modo guarda salutiamo così come fa Boris con i tre dita bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti